Original Priscilla 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 Ciao a tutti, sono Priscilia, oggi vi presento il nuovo centro, il Passage 44, che si trova in plein centro di Bruxelles, vicino alla gare del nord, anche al metro botanico Erogé, vicino alla rue Neve. Il centro è aperto per voi, voi che guardate, la comunità africana e europea. Il centro è aperto a tutte le tipo di eventi, anniversari, mariaggi, conferenze o ancora concerti. Grazie a tutti i nostri sponso Bottega Gold e Belfus che abbiamo potuto questo centro. N'hésitez pas, venez nombreux, fate passare l'info, contactez-nous per qu'ensemble noi puissiamo organizzare vostro evento sur mesure. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.